Fari puntati sull'ospedale Spock di Corigliano Rossano per una maggiore efficienza organizzativa in attesa della realizzazione del nuovo ospedale della Siberitide, rispolverato il piano oscura che prevede l'area chirurgica nel presidio di Rossano e l'area medica al guido compagna di Corigliano, il pensiero dominante che tutto debba restare invariato fino alla consegna del nuovo nosocomio, ma l'esistente continua a produrre diseconomie e problemi anche nelle turnazioni dei camici bianchi. Ci sono sicuramente alcuni reparti che riguardano in particolar modo l'area medica e quindi io parlo ad esempio dell'oncologia, della dialisi, nefrologia, dell'oculistica che dovevano essere comunque trasportati verso l'area medica. Non dimentichiamo anche la neurologia, noi abbiamo un'ottima neurologia che oggi purtroppo soffre di una forte carenza medica, ma oggi guardiamo comunque verso quella che dovrà essere la realizzazione dell'ospedale unico. L'attuazione del piano oscura apre però le porte al campanilismo. Io su questo, sulla sanità, ritengo che non ci debbano essere assolutamente divisioni fra le due città. Il mio augurio qual è? Che i due presidi ospedalieri funzionano. Politica e sanità, un cordone da interrompere. Purtroppo la sanità, se oggi voglio dire, non ha funzionato sino ad oggi perché c'è stata un'ingerenza della politica che non andava nella direzione di garantire alcuni servizi.